Bacinizzazione del Po, ovvero l'inserimento lungo il corso del Grande Fiume di 4-5 barriere mobili che si possono aprire e chiudere a seconda delle esigenze. È il progetto inserito nello studio di fattibilità realizzato dall'Aipo per conto delle quattro regioni attraversate dal Grande Fiume, uno studio cofinanziato dall'Unione Europea che mette nero su bianco i possibili interventi risolutivi del Po anche a fini navigabili. La bacinizzazione del Po, secondo i fattori del progetto, accumulando acqua a monte per gestirla quando ce n'è bisogno potrebbe dare una risposta al problema della siccità sia invernale che estiva che ciclicamente si ripropone. Un tema che vede allo studio anche i scienziati e i ricercatori. È un tema ovviamente importante che va affrontato non in modo fondamentalista con dei no o dei sì preconcetti ma che richiederebbe una valutazione molto attenta dei costi e dei benefici includendo tra questi non solo quelli economici ma anche quelli ambientali e avendo sempre un occhio a lungo termine. Non guardiamo ciò che facciamo oggi, il bisogno di oggi ma teniamo conto anche di quelli che potranno essere i bisogni o i danni di un futuro che possiamo misurare in 10-15 anni ma soprattutto per le generazioni future, 50 anni. Ma la sistemazione idraulica del Po senza la necessità di bacinizzazione era stata già tuttavia finanziata nel 2007 dal Cipe successivamente cancellata per dare le risorse alla ricostruzione dell'Aquila per il post-sisma. Un progetto denominato Valle del Fiume Po che prevedeva microinterventi più leggeri e meno invasivi della bacinizzazione abbastanza simile ad un altro progetto sempre inserito nello studio di fattibilità che parla di Po a corrente libera in grado cioè di preservare il flusso naturale regolando l'alveo di magra con interventi più leggeri e veloci. Sarà su questi due progetti che ora Governo Centrale e Regioni dovranno scegliere valutandone pro e contro costi e benefici perché sull'asta del Grande Fiume si trova uno dei distretti agroalimentari più importanti d'Europa una produzione di energia idroelettrica nazionale con la richiesta sempre più potente di incentivare navigabilità commerciale e turistica poi c'è un documento di WWF Legambiente che spiega come l'artificializzazione dei fiumi è causa di grandi catastrofi fluviali e forse anche di altri grandi incognite. Se io interrompo il Po in più punti e non faccio arrivare l'acqua alle lagune cosa può succedere all'acquicoltura? Cosa può succedere alla circolazione dell'Adriatico? Questi sono i temi sui quali bisogna confrontarsi in modo aperto e diciamo adottando le migliori tecnologie, le migliori conoscenze che si hanno su quello si può dare una risposta poi la decisione non lasciatela in mano agli scienziati che devono fare un altro mestiere la devono prendere gli amministratori pubblici e le parti interessate le categorie interessate e devono raggiungere un equilibrio tra ciò che è il bisogno di uno e il bisogno dell'altro perché sappiamo che sono confini molto labili e dove uno comincia l'altro deve finire quindi grazie a tutti Grazie a tutti.